Good Games, libri, reti e storie di ordinaria resilienza. Per gli addetti ai lavori il primo passo di un lungo percorso insieme, la biblioteca comunale e le librerie cittadine. A Trani sono in tutto 5, si mettono in rete e organizzano manifestazioni online di promozione e presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori creativi per bambini e laboratori di scrittura per ragazzi. Il programma partirà il 28 dicembre, si arriva fino alla fine di gennaio con incontri dedicate alla Shoah in occasione del giorno della memoria. È un'attività che si collega anche a una recente iniziativa ministeriale, quella del Fondo Emergenze e Imprese a favore e a sostegno della editoria libraria e anche in questo la biblioteca aderendo al progetto ministeriale ha potuto finanziare attraverso l'acquisto dei libri tre librerie della città di Trani destinatari appunto di una fornitura per un importo complessivo di 10.000 euro. Abbiamo investito delle piccole risorse anche nella cultura, nella crescita culturale del nostro territorio coinvolgendo probabilmente chissà dal punto di vista culturale ma anche lasciatemi lo dire commerciale soffrendo di più e cioè le nostre librerie cittadine attraverso un progetto che quindi da una parte sostiene le librerie dall'altra va incontro alla crescita culturale dei nostri cittadini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.